assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh i messaggi che il profeta muhammad sallallahu alaihi wasallam ci manda attraverso i suoi compagni attraverso anche le compagnie che allah subhanahu wa ta'ala sia compiaciuto su tutti loro non solo un insieme di ordini o di prescrizioni o di insegnamenti detti con le parole ma anche attraverso alcune situazioni dove il profeta muhammad sallallahu alaihi wasallam non diceva delle cose ma erano i suoi atteggiamenti che parlavano che a loro volta sono insegnamenti e messaggi che il profeta sallallahu alaihi wasallam ci vuole mandare una di queste situazioni è la prima situazione nella vita del profeta sallallahu alaihi wasallam ossia nella vita profetica da quando il profeta sallallahu alaihi wasallam diventò profeta e messaggero di allah subhanahu wa ta'ala questa situazione è la prima notte della rivelazione del messaggio di allah subhanahu wa ta'ala tramite l'arcangelo gabriele al profeta muhammad sallallahu alaihi wasallam il profeta sallallahu alaihi wasallam appena ricevuto queste benedette parole e diceva io sono non leggo sono un alfabeta il profeta sallallahu alaihi wasallam in questo momento ricevette la responsabilità l'amana la responsabilità di questo mondo di questa umanità di guidare l'umanità verso il bene guidare un'umanità che era immersa nella corruzione nell'ingiustizia nella discriminazione quindi il profeta sallallahu alaihi wasallam deve decidere cosa fare di questa responsabilità il profeta muhammad sallallahu alaihi wasallam ha scelto di rivolgersi a qualcuno ed è questo il messaggio del profeta sallallahu alaihi wasallam che ci vuole mandare davanti le situazioni che affrontiamo nella nostra vita una giovane moglie che per la prima volta conosce qualcosa che si chiama rimanere incinta e quindi avere una responsabilità di una persona di un essere umano di un neonato che affronterà le sfide della vita cambiare lavoro anche quella una sfida una responsabilità e avere un livello più alto nella nostra carriera lavorativa anche questo una responsabilità quindi un insieme di cose che affrontiamo nella nostra vita ricordiamo anche la vita universitaria ad esempio la carriera accademica professionale sono tutte delle sfide che affrontiamo ma anche delle responsabilità che ci troviamo davanti cosa facciamo qui il profeta muhammad sallallahu alaihi wasallam ci dice un messaggio importantissimo che non c'è una persona che si fida di noi quanto i nostri cari le nostre famiglie la nostra famiglia piccola e grande e i nostri amici quindi ci rivolgiamo a loro quando siamo di fronte ad alcune responsabilità e non sappiamo come reagire come affrontarle ci rivolgiamo queste persone per ricevere il loro consiglio come lo fece khadija radiyallahu anha moglie e compagne del profeta muhammad sallallahu alaihi wasallam che le disse la famosa frase li dia così appoggio e sostegno attraverso delle parole che supportano il profeta sallallahu alaihi wasallam gli disse sei una persona generosa nei confronti dell'ospite tu che aiuti le persone bisognose tu che aiuti i disabili aiuti chi ne ha bisogno di un aiuto e quindi allah subhanahu wa ta'ala non ti abbandonerà però il profeta sallallahu alaihi wasallam non si limita a un supporto morale ed emotivo ma si rivolge anche agli esperti khadija radiyallahu anha aveva uno zio conoscitore delle sacre scritture e qui parliamo di waraka ibn naufel il profeta sallallahu alaihi wasallam disse a khadija radiyallahu anha portami da waraka ibn naufel e quando li incontrò il profeta sallallahu alaihi wasallam disse waraka ibn naufel o messaggero di allah questo è quello che fu rivelato sul profeta mosè e quindi confermò al profeta sallallahu alaihi wasallam questa responsabilità della rivelazione gli disse però la tua comunità ti costringerà di lasciare la mecca questo è quello che accade per tutti gli uomini di fede per tutti i profeti e messaggeri di allah subhanahu wa ta'ala che erano in qualche modo costretti a lasciare la loro patria per poter diffondere e divulgare la parola di allah subhanahu wa ta'ala quindi il profeta sallallahu alaihi wasallam si rivolge a un esperto come dice il quran al karim fa sallu ahle al zikri in kuntum la ta'lamun rivolgetevi a coloro che sanno quando non sapete e il sapere qui non è solo un sapere religioso anche un sapere materiale nelle scienze esatte e nelle scienze profane noi abbiamo il dovere di rivolgerci a chi ne sa di più nella salute ci rivolgiamo al medico nelle costruzioni, delle case, delle strade ci rivolgiamo agli ingegneri, ai geometri però quando si tratta della religione, della spiritualità ci rivolgiamo ai maestri spirituali, all'imam, ai shuyuk ci danno il parere religioso, il parere divino di allah subhanahu wa ta'ala sulle nostre questioni e le nostre faccende mondane e quotidiane questo è il messaggio che vuole rivolgere il profeta sallallahu alaihi wasallam in questa puntata alla sua intera umma ogni messaggio, ogni situazione è un insegnamento del profeta sallallahu alaihi wasallam alla sua umma e all'intera umanità Barakallahu fecom Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh